Cari fratelli e sorelle in Cristo, è il fratello Franche che vi parla dal Centro Missionario Internazionale di Krefeld, Germania. Noi siamo molto, molto riconoscenti a Dio per le riunioni che abbiamo avuto in questo ultimo fine settimana. Fratelli e sorelle, i veri credenti sono venuti da tutta l'Europa ed anche da oltremare e poi da tutte le nazioni si sono uniti a noi tramite Internet per ascoltare e per vedere quello che il Signore ha provveduto per noi, la sua preziosa e santa parola. E noi abbiamo condiviso il messaggio dell'ora, la preziosa e promessa parola di Dio per questo giorno. Ed io ho letto dalla lettera ai Romani, capitolo 1, questi versetti molto, molto importanti. Romani, capitolo 1, dove l'Apostolo ritorna all'Antico Testamento e mostra che quello che Dio ha promesso nell'Antico Testamento, egli l'adempie nel Nuovo Testamento. Romani, capitolo 1, versetto 1. Paolo, servo di Cristo Gesù, chiamato a essere Apostolo, messo a parte per il Vangelo di Dio. e poi che Egli aveva già promesso per mezzo dei Suoi profeti nelle Sante Scritture, nell'Antico Testamento. Fratelli e sorelle, questo è così importante. Nell'Antico Testamento, Dio ha usato i profeti per preannunciare tutto quello che Lui avrebbe fatto nel corso del Nuovo Testamento. E se leggete Matteo, capitolo 1, noi troviamo che Dio ha confermato sin dall'inizio la promessa fatta in Malachia. Il Signore stesso ha detto, io mando il mio messaggero a preparare la via davanti a me. E' assolutamente meraviglioso conoscere l'armonia dell'Antico e del Nuovo Testamento. In primo luogo, Dio ha fatto delle promesse, usando i profeti per preannunciare quello che sarebbe avvenuto, quello che sarebbe accaduto nel piano di salvezza. E poi, da Matteo, capitolo 1, ci vengono riferite le promesse adempiute, una dopo l'altra. Anche continuando in Atti, capitolo 1, Atti, capitolo 2 e gli altri capitoli. Ogni cosa è l'adempimento di quello che Dio aveva promesso nell'Antico Testamento. Il nostro interesse principale è la seconda venuta di Cristo. E tutti i veri credenti condividono nel loro cuore questa promessa e aspettano di vedere la promessa adempiuta. E poi ritorniamo solo per un momento all'inizio, alla prima venuta di Cristo. Giovanni il Battista, il profeta promesso dell'Antico Testamento e noi troviamo il risultato del suo ministero in Luca, capitolo 1, versetti 17 e 18. Un popolo ben preparato per il Signore. E' quello che il messaggio dell'ora farà. Un popolo ben preparato per il Signore. Perché in Matteo, capitolo 25, noi leggiamo Ecco, lo sposo viene. E poi, quelle che sono pronte, che sono preparate, andranno alla cena delle nozze e la porta sarà chiusa. Noi stiamo aspettando il ritorno di Cristo, la seconda venuta di Cristo, che lo sposo venga per portare la sua sposa a casa. E qui abbiamo la promessa in molti posti. Prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, dal versetto 50, in merito al ritorno e alla venuta di Gesù Cristo. Prima lettera ai Tessaluncesi, capitolo 4, e molti altri passi della scrittura che parlano di quel grande evento. E quando si arriva alla diretta venuta del Signore, noi dobbiamo leggere entrambi le scritture. Prima lettera di Giovanni, capitolo 4, versetto 2. Prima lettera di Giovanni, capitolo 4, versetto 2. Da questo potete conoscere lo Spirito di Dio. Ogni Spirito che riconosce che Gesù Cristo è venuto nella carne è da Dio. Questo si riferisce alla prima venuta di Cristo, quando la parola fu fatta carne e Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore, è venuto in questo corpo di carne per prendere su di sé, alla croce, i peccati che noi abbiamo commesso nel corpo di carne. ed Egli ha sparso il suo sangue, ha dato la sua vita per riscattarci e darci la redenzione ed il perdono dei peccati. Ma quando si parla della seconda venuta di Cristo, ed io leggo dalla stessa Bibbia che leggeva il fratello Branham. E nella seconda lettera di Giovanni, nel versetto 7, leggiamo poiché sono apparsi nel mondo molti seduttori i quali non confessano che Gesù Cristo viene viene in carne. Questo è il seduttore e l'anticristo. qui noi abbiamo un'affermazione molto importante perché molti di coloro che affermano di credere al profeta e il messaggio dicono Cristo è già venuto in modo spirituale, ha lasciato il seggio di grazia, è venuto per reclamare i suoi redenti. Questa è una menzogna. Questa è una menzogna. Gesù Cristo si è rivelato in un modo eccezionale e soprannaturale. È apparso al fratello Branham. quante volte quante volte in tutte le file di preghiera la colonna di fuoco è discesa. Io sono stato nelle sue riunioni. Io lo so quello che è accaduto. Sono un testimone oculare. E poi il 28 febbraio 1963 è discesa la nuvola soprannaturale. Il Signore circondato da sette angeli. Ed il settimo angelo in quella costellazione ha parlato al fratello Branham dicendogli di ritornare a Jeffersonville per l'apertura dei sette suggelli. Ma quello non è stato il ritorno. Non è stata la seconda venuta di Cristo. No e ancora no. Quello era soltanto Dio che la sua grazia ha mostrato al suo profeta che il tempo dell'apertura dei sette suggelli era giunto. e cari fratelli e sorelle io ho una responsabilità di fronte a Dio e devo dirvi e devo chiedervi di leggere la parola di Dio non di dire soltanto qualcosa. Per esempio Atti degli Apostoli capitolo 1 questo Gesù che è stato portato in cielo di mezzo a voi ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo. Questo è ciò che dice la parola di Dio e il nostro Signore ha portato i Suoi discepoli fino a Betania e poi Egli ha alzato le mani ha benedetto i Suoi discepoli e mentre li stava benedicendo è stato portato nella gloria e loro hanno guardato e lo hanno visto salire corporalmente non un messaggio non una rivelazione ma corporalmente e il fratello Branham ha sottolineato il Signore ritornerà corporalmente nella stessa maniera in cui è stato portato su nella gloria e noi saremo mutati questi corpi non una rivelazione no ma una realtà e ogni rivelazione che viene da Dio è sempre collegata alla realtà non alla fantasia ricordo un fratello in Virginia che stava in piedi di fronte a me e disse fratello Frank sai noi siamo già stati rapiti fratelli e sorelle voi non potete immaginare io ho semplicemente pianto dissi caro fratello tu sei qui e io sono qui come puoi dire che sei stato rapito e lui ha risposto è una rivelazione se hai la rivelazione sei già rapito e sei già nel millennio dissi caro fratello per favore riportami all'aeroporto io non crederò nulla che non sia la parola del Dio onnipotente e lo ripeto i numerosi insegnamenti diversi sui tuoni in merito a questo e a quello per favore per favore comprendete tutto quello che faceva parte del ministero del ministero speciale del profeta di Dio William Branham lasciatelo a Dio e lasciatelo dove è stato ordinato io ho predicato più di 8000 sermoni in 156 paesi ma non ho mai predicato sui tuoni perché no perché se io apro questa parola di Dio dove dove che posso predicare sui tuoni ditemi dove per favore dove da quale Bibbia da quale versetto da quale capitolo e anche in Apocalisse capitolo 10 quando i sette tuoni faranno dire le loro voci quando il signore verrà come angelo del patto non per il rapimento per il rapimento egli viene come sposo per portare a casa la sposa ma quando egli viene come proprietario originale come angelo del patto mettendo un piede sulla terra e uno sul mare giurando per colui che vive in eterno è allora che i sette tuoni faranno dire le loro voci e non sono neanche scritti a Giovanni fu proibito di scriverli a me è proibito predicarli quando rispetterete la parola di Dio questo è il tempo in cui dovete rispettare la parola di Dio e ritornando nella seconda epistola di Giovanni versetto 7 se non confessate che Gesù Cristo il nostro Signore Salvatore ritornerà nello stesso corpo con il quale è stato risuscitato e con il quale rimase con i suoi discepoli per 40 giorni e poi secondo Luca capitolo 24 versetti 50 e 51 davanti ai loro occhi fu portato corporalmente nella gloria ed egli ritornerà secondo la parola di Dio nella stessa maniera e noi per la grazia di Dio crediamo la prima epistola ai testalancesi capitolo 4 nel preciso ordine quando il Signore ritornerà i morti in Cristo risusciteranno corporalmente loro risorgeranno corporalmente noi viventi saremo mutati corporalmente ed insieme saremo portati su e incontreremo il Signore nell'aria e saremo con Lui alla cena delle nozze dell'agnello seduti mangiando e bevendo con Abramo Isacco e Giacobbe con tutti gli eletti dell'Antico e del Nuovo Testamento sarà una realtà tutto quello che è collegato al piano di salvezza col Salvatore e con i salvati sarà una realtà che Dio vi benedica ed ho fiducia che comprenderete la mia responsabilità di fronte a Dio con William Branham il profeta di Dio l'11 giugno 1958 a Dallas Texas poco prima della riunione ho avuto una conversazione molto buona ed egli ha condiviso con me il suo incarico divino e il messaggio dell'ora per la prima volta alla fine di quella conversazione lui disse guardando a me disse fratello Frank tu ritornerai in Germania con questo messaggio e per la grazia di Dio sono rimasto collegato al suo ministero per dieci anni e per la grazia di Dio ho pubblicato tutti i suoi sermoni io vado di città in città per predicare la parola di Dio che possiate ricevere rivelazione divina comprensione divina che possiate rispettare la parola di Dio è la mia preghiera nel nome santo di Gesù Dio vi benedica ovunque siate sulla terra questo questo è il tempo di Dio per il popolo di Dio di ritornare alla parola di Dio ed essere pronti per il ritorno di Cristo Dio vi benedica nel nome santo di Gesù amin di Dio di Dio di Dio Grazie a tutti